La prevenzione nel periodo materno dalla gestazione ai primi due anni di vita del bambino. Questo è il tema, il titolo del seminario che si è svolto nel pomeriggio alla Mediateca regionale Sergio Fregoso di Via Firenze. È considerata proprio l'attualità del tema che riguarda i vaccini. Abbiamo a questo proposito chiesto proprio al dottor Elio Castagnola, il direttore delle malattie infettive dell'Istituto Gaslini di Genova, il suo punto di vista. Ecco, cosa dire proprio ai genitori che hanno delle perplessità rispetto proprio alla scelta di vaccinarsi? Io direi a questi genitori che noi siamo tutti vaccinati e siamo qui in buona salute proprio perché siamo stati vaccinati. Io non negherei ai miei figli una buona cosa che ho potuto avere io. Non c'è da aver paura dei vaccini, c'è da aver paura di certe malattie che noi pensiamo che non esistano più perché non ci sono più, magari le epidemie di una volta perché ci sono meno bambini. Ma le complicanze si vedono, i danni grossi si vedono e non è giusto poi piangere o vivere con i rimorsi di dire ma se avessi fatto. Bisogna aver paura delle malattie, non dei vaccini, di certe malattie infettive, ma non dei vaccini. Mi sento assolutamente di consigliarlo tranquillamente e dico che io non consiglierei mai a nessuno qualcosa che non farei, non a me stesso, che uno dice, ma che non farei miei figli e anche i miei nipoti, spero. L'evento si inserisce all'interno di un programma di educazione sanitaria promosso dal Comune della Spezia che ha proprio come obiettivo quello di informare i cittadini al fine di rendere le loro scelte più consapevoli. Ma sì, la medicina è cambiata, sta cambiando tutto il sistema sanitario. Da 40 anni, per fortuna, in questo paese abbiamo la sanità per tutti, però è chiaro che l'avvento di internet ci fa sentire un po' tutti i dottori. Bisogna essere sempre più consapevoli dei propri diritti, doveri, di come affrontare purtroppo anche le nuove malattie a cui non eravamo preparati. E poi c'è da riflettere sul futuro, il cambiamento delle tecnologie, a partire dai farmaci personalizzati, a partire dai nuovi sistemi tecnologici per individuare le patologie. E proprio per questo noi abbiamo voluto questo ciclo, quindi di tre incontri che coinvolge tutta l'età della vita di una persona.